Oggi su Minecraft dovremo salire una scala arcobaleno Durante la scalata troveremo vari oggetti OP Che dovremo utilizzare per delle prove molto complicate Il nostro obiettivo ovviamente sarà quello di arrivare in cima Ma che cosa ci sarà alla fine di questa scala? Ferre non so cosa ci aspetta ma muoviamoci perché voglio andare lì sopra assolutamente Guardate quante cose ci sono da fare Ma più belle che sono, tutte colorate poi Sì, però va, apri questa carta Oggi Steph te lo dico ma aspetta cose belle Bistecca arcobaleno Uh, aromatura arcobaleno Mele d'oro, ma questo che cos'è? Arco baleno OP Arco trattino baleno, hai capito? Sì, sì, Steph, era ovvio Molto bello, molto bello Eh, però a che serve scusami? Ah, ma sono super fashion però Allora, proviamo a vedere un attimino quest'arco Lo stai pronto? Per fortuna non mi hai tirato addosso No, no, non ti ho mirato, quindi Allora, signor maialino No, Steph Ma perché l'hai trasformato in pigman? Pere, c'è un dettaglio che forse non hai notato Hai visto cosa spara? Diamanti? Sì Diamanti però non sono normali Diamanti arcobaleno Esatto Che fanno fulmini quando colpiscono Andiamo, Steph È incredibile Io lo stavo dicendo poco fa Oggi solo cose belle Perché delle scale così colorate Possono solo portare cose belle Io questo forse non lo direi No, 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 no Meglio non dirlo Ma poi hai visto cosa spara? Pere Che era? Non lo so cosa sono Ma mi ha fatto togliere un infarto Ma siete pazzi? Aiuto Sono anche difficilissimi da prendere Ok, l'ho steso Sì, sì, anch'io Anch'io Bravissimi, bravissimi Solo cose belle Oh Ma io ero così tranquillata mia Ma vi calmate Ok, ne ho steso un altro Ok, anch'io Allora, muoiono subito Solo cose belle È zitto, Steph Io sto facendo l'eco della frase di Fere Guarda Però vuol dire che magari alla fine di questi demoni Ci staranno cose belle Sì, altri demoni Premi belli Ormai, guarda Ok Steph, quest'arco è la vita Sì, infatti senza questo Sarebbe veramente un problema No, ma me ne sono proprio innamorate È bellissimo Opla Fere, sono tantissimi Aspetta che mi mangio delle pistechine arcobaleno Spammi è più facile Spamma, spamma, spamma Ah, si può spammare? Guardami, sì, si può spammare Ma è proprio arcobaleno P.O.P. questo Esatto, proprio P.O.P.O.P. Devo mangiare anch'io Totalmente notto Allora, ci sei? Sì, 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 sì Beh, questa porta non deve essere pericolosa Perché ci sono altre scale Sono bellissime comunque, Steph Aspetta Cassia La spada arcobaleno P? Ma che vuol dire? Allora, l'armatura non credo di averla cambiare No, prendo giusto Poi mi vedete, non è tutto a posto Le mele d'oro Esatto Potrebbero essere utili Facciamo in questo modo Spada arcobaleno P Allora, fatemela vedere un pochino Ma fa dieci di attacco? Non mi sembro P, infatti Cioè, dieci di attacco non è tanto Magari, aspetta Che c'è? Ho detto, magari fa qualche effetto Stavo cliccando tutto, ma no Cosa ti ho fatto? Ho visto delle particelle strane Quando ti ho colpito Sì, però non ho Cioè, non mi hai fatto così tanto male Capisci? Prova a colpirmi Ho paura Vedi? Cosa ti ho fatto? Vabbè, proviamola sui mostri Che magari hanno effetti diversi Sono giganti Oh, oh Buongiorno Accidenti Ma che cavolo sono? Occhio, eh Vai, 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 vai Stef, sono giganti Fanno molto male Ho notato Ci sto a schiattare Aiuto Occhio, eh Oh, mi hanno incastrato Aiuto, aiuto Bene, scappa? Sì, 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 scappo Ne ho sottovalutati Sono forti, eh Ok Vai, 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 vai Sono basso, che male Stendilo Bravissima Allora, la spada non è così tanto No L'arco era molto più P Esatto È una bella spada Molto bella esteticamente Molto bella esteticamente Bellissima da avere Aiuto, 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 aiuto Però non è che ti rende super invincibile Ai, è che male Un po' deludente Su Ai, 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 ai È un po' deludente Ok, io sto tipo dando un colpo e scappo È la cosa migliore Il problema No, io ne fronteggio una alla volta È che in queste nuvole Ti incastri, quindi è difficile, Steph Anche a me è capitato Vieni qua Ok Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uno contro due Ti schiaccia Ti troppo lento Ok, dico io Ole Arriva, arriva, arriva No, ce l'ho fatta Ok Ma sono gestita bene Mangio, 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 mangio Quindi Sto posto, Steph Continua ad essere sempre più bello Dici? Sì, sì, guarda Non so, stiamo solo combattendo alla fine Deve essere solo cose belle L'ambientazione è molto bella Aiuto, sembra di cadere qua comunque Non avevo guardato sotto Sì, 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 sì Fammi vedere Stiamo molto in alto Andiamo avanti, andiamo avanti Andiamo Allora, quindi noi apriamo la porta E ci sarà un altro oggetto OP Mela arcobaleno OP Ma che bella è Molto È stupenda Molto Allora, io comunque quelle d'oro le prendo sempre, ragazzi Perché non si buttano Certo Cioè, le mele d'oro su Minecraft Sono sempre utili Io ne mangio una Le abbiamo santa qua Mangiala, Steph Mangiala Mangiala E guardati gli effetti Allora, jump Assorb Regeneration Ok, però Ferre torna indietro Ferre torna indietro Tanta gente brutta Allora, aspetta Ma sai che secondo me dobbiamo correre? Devi mangiare la mela E correre E correre e saltare Hai ragione Hai ragione M'hanno accecato Non vedo più nulla Ora ci vedo Corri, Steph No Sei caduto È caduto Perfetto Io ce la faccio Io ce la faccio Sto saltando Perché devo fare le figuracce? Ce l'ho fatta Calmi, signori Se poi te li uccido, Steph O vuoi prima di fare il percorso? Ok Non vale Però dai, salta Sto saltando No, Steph, perché macecano? Poi non vedo più nulla Non è possibile Ma perché appena Non buttano giù? A me è andato tutto liscio Allora, mangia, mangia, mangia Vado Allora, te ne faccio fuori alcuni Perché sei uno scarsone L'abbiamo capito tutti Corre e salto È che se esco fuori Mi accecano e mi sbalzano Quindi poi rischio di cadere io Ok Dai, Steph Guarda, non vedo più nulla Non vedo nulla Corri, corri, corri Ci sei, ci sei Aiuto Qui dentro, qui dentro Qui dentro Chiudi, chiudi, chiudi Chiudi Dai, che ce l'hai fatta No, aspetta Spostaci Ok Non vedo Ma so che In qualche modo Mi colpisco Maledetti Mi colpisco anche da questa parte Infatti li sto facendo Dove sono? Steph, non c'era bisogno Dai, dai Non puoi combatterli Allora Piccone arcobaleno P Ma stiamo trovando di tutto Piccone arcobaleno P Mele d'oro Ok, proseguiamo Steph, ancora? Bene, io Ma quanto sei rancoroso Nella tua vita Almeno uno devo far fuori Ma non li vedo Io li ho fatti fuori No, mi sa che tornano Quindi lascia No, no, no Li hai avvicinati tu Ma non schiappano Io me ne vado Ciao, Steph Cioè, sono immortali Mi lasci stare Basta, me ne vado Avete vinto voi Complimenti Mi stanno ancora più bello Mi stanno ancora cecando Guarda Ok, mi hanno lasciato in pace Eh, certo Se tu gli attacchi ti rispondono Ma cos'è sto posto? Ma Salve È la miniera delle fortune Questa stessa Buongiorno Ci dobbiamo parlare? Prova a parlarci, sì Ah, no, hanno gli scambi Allora, praticamente ci dà la chiave arcobaleno Però perché sono tante chiave arcobaleno? Questo non lo capisco Se li portiamo varie pietre preziose Secondo me ce ne sono tante Magari ce ne serve più di una Ma anche per permetterci di avere più varietà possibili di minerali Prendiamo tutto Boh, è nel dubbio, esatto Bellissimo È bellissimo, sto piccone Prendi tutto, prendi tutto Ma con che ricchezza me lo stai dicendo? Esatto C'è talmente ricco sto posto che sbrilluccica Pef? Che succede? Ma perché? Come ci sei riuscito? La miniera ha dei buchi Stavo prendendo le gemme Non esagerare Io prendo solo quelle che vedo, quindi Allora Allora, allora, allora Mai scavare sotto di sé Regola numero uno di Minecraft Stef non l'ha rispettata Che vale anche nelle nostre avventure Vale anche nelle nostre avventure Mannaggia a me, mannaggia Anche perché poi ha sbrilluccicato Quindi non mi sono accorto che ce l'ha al fossato E sono caduto Certo È pieno di ricchezze, Stef Poi le uniamo Così poi magari ci pensi tu a prendere la chiave Sono bellissime, Pele Sono veramente bellissime Sì, 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 sì Ok, facciamo così Ma poi Questo posto è stupendo, dimmi Domanda molto importante Ok Prendiamo la chiave, tutto bello Dove dobbiamo usarla? Non lo so Effettivamente Pele, tu hai fatto tipo una achievement Hai visto? Sì, ma lo so cosa sia Non lo so Forse hai preso un tot di pietere Sì, 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 sì Hai fatto tipo la collezione completa Esatto Penso di aver completato una collezione Esatto Mi sembra strano che io non l'ho completata ancora L'ho preso tantissime Secondo me Per chi non prendi di te Pele Eh, tu sei anche caduto, Stef Mi spiace Non sono mai caduto Allora, ok Non l'ha vista nessuno Non è caduta Secondo me la chiave la possiamo prendere Il problema Ok È dove? Eh, sì Secondo me questa miniera non ha un'uscita Dici? Io invece prendere la chiave e poi tornare qua Ok Secondo me la cosa migliore Allora, sai che ti dico? Mmh Cerchiamo di incontrarci Ti do le mie gemme o pensi che le tue baste? Ah, basterà Ok Allora Allora, questo non posso comprare Questo lo posso comprare Comprata la chiave Opla Perfetto Grazie per la chiave arcobaleno Cerchiamo un'uscita Dove cavolo sarà un'uscita adesso? Allora, qui non c'è nulla, Stef Qui non c'è nulla Ma secondo me è chiusa E per andare ve la usi la chiave Eh, quello è il punto Qua non c'è niente Da quest'altra parte non c'è niente Scusa, Stef Sto cercando di rompere un po' per capire No, secondo me non dobbiamo scavare la miniera Credo Sì, sì Eh, lo spero anch'io Allora Facciamo che torno fuori Magari c'è una zona che non ci siamo resi conto Eh, infatti Mi sembra anche piccola poi come miniera Non penso Buongiorno Mi scusi Lei ci ha venduto una chiave Ma per dove? Forse devo girare attorno alla montagna Ma c'è un'altra zona Trovato, trovato, trovato Devi girare attorno alla montagnetta Sì, sì, lo sto già facendo Ok Ecco, quindi devo buttare la chiave qui Opla Perfetto E adesso Bellissima Accetta Accetta arcobaleno Bellissima Ma sono fantastici questi Questa è ancora più bella Sì Vabbè, tutte le gemme prese me le tengo Tutte le ricchezze Schifo non mi fanno Ovvio Tutto per me Allora Perfetto No Gli alberi arcobaleno, no Aspetta che arriva Vieni a vedere Sono bellissimi Vai vai Prendi 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 Opla La casa OP si chiamerà Sì, la casa arcobaleno OP Ti ci manca solo un unicorno Ok Ma hai visto qui, Stef Il terreno No Guarda Che figo Questa è proprio l'erbezza Ma perché siccome quella lì Farai la nuvola finale Eh, penso proprio di sì Vero? Sì, sì Cioè, sembra che siamo arrivati alla fine Siamo saliti tantissimo Secondo me siamo arrivati alla fine Dobbiamo prenderli tutti gli alberi Allora, non penso Io mi sono braccatato un bel po' di legno Eh, anche io ne ho tantissima Andiamo, 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 forza, forza Forza Cioè, perché qua non c'è nulla da aprire Ok, nel senso che è tipo chiuso a chiave, eccetera, eccetera Non c'è nessun oggetto È la scala finale, Stef Quindi Cosa dobbiamo fare qua? No Ah, dobbiamo usare questi blocchi per costruire Fere, ma quello lì è un po' gigante Io lo sapevo che c'era l'inghippo È un po' gigantesco quel tipo Allora Stef, però, anche tu Per favore È bene, scusami, eh Per favore Opla Opla Fere, se mi spara da lontano Siamo morti, sappiamo Infatti sto facendo un percorso molto largo, Stef Per evitare cadute stupide Ok Ok Perfetto Eccoci, dai, siamo arrivati Buongiorno Cosa siamo? Allora, io mi mangio la mela Esatto Usiamo tutto quello che abbiamo E tiro dritto con l'accetta Quanto fa l'accetta? No, fa due Solo Per prendere la legna Fere, lo stai distruggendo Vado con la spada perché mi dispiace per lui No, no, no Con la spada riesco a colpirlo Io lo colpisco, guarda È molto scarso Fere, ma cosa sta buttando a terra? Cosa sono? Spade No, no, no Sono gemme Fere, mi ha distrutto Mi ha distrutto Aiuto Scappa Mangiati la mela Mangiati la mela Ok Gira, torno E spara nel mentre Sì, 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 sì Non farti colpire troppo Fa veramente molto male Mi prende pure male Fa così tristezza Vai, vai Altro che prende male Sa roba è fortissimo Ok Ma noi abbiamo le armi opibili Aia Aia Schiatta, maledetto Ok È morto? Yes Uff Ma che sono? Guarda bene ora che non c'è Steph Sembrano tipo delle spade con delle gemme Ma sono spade, sono tipo di cristalli Forse scaglie Esatto, ma Non lo so, è qualcosa di demoniaco che non conosciamo Solo che sono tantissime Sono tantissime Sono tantissime Va bene, andiamo a questa parte Buongiorno Abbiamo avvenito Abbiamo completato tutto Eh sì E questo è il nostro trono? Sì Ma scusa Eh Bello Scusa Steph Cosa manca? Un premio? Beh, Fede Mi sembra un po' eccessivo Abbiamo una spada arcobaleno OP Ho capito Un arcobaleno OP Le bistecche arcobaleno Le mele arcobaleno OP La legna L'accetta arcobaleno OP Volevo qualcosa di più Il piccone arcobaleno OP La legna OP Tutte le pietre preziose che vi ho preso Sai, io non mi lamento, eh Cioè, sinceramente Io non mi lamento Prendetevela con Fede Che veramente Non è mai grata Non è mai felice Non è mai soddisfatta Quindi Se volete arrabbiarvi Fate con lei È ghiaccio Sì, questo è lo ghiaccio Stavo per morire Allora, non voglio morire per l'insieme volta Volevo scendere Ma quello lì è ghiaccio Allora, facciamo così Papà 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 Ma sei sicuro? Bloppete Io non scendo Rimango qui Rimani lì? Mi tengo il trono, sì Guarda quanto cavolo è in alto Visto da sotto Impressionante Signori, ci fermiamo così Questi oggetti sono veramente Super, mega Bellissimi Sotto con paio altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao, ciao